Susanna, sei la presidente di giuria di un festival di Tormina particolare, nuovo nella direzione soprattutto. Che effetto ti fa? C'è una responsabilità o una emozione quasi da spettatrice in questo? Intanto sono molto emozionata e curiosa di vedere che cosa questi tre bravissimi giornalisti hanno selezionato di film. La selezione che hanno fatto loro tre, di cui stavo proprio dicendo, mi fido molto dei loro gusti e quindi sono emozionata di che cosa ci faranno vedere a partire da domani. Questi sei film che poi sono opere prime e seconde e il fatto che siano opere prime e seconde è un elemento in più di interesse perché è il cinema del futuro. Quindi appunto linguaggi nuovi, modi nuovi o forse linguaggi antichi che ritornano. Insomma il cinema è continuamente in evoluzione ed è per noi, per me, insomma è un modo di vedere così tanti film tutti insieme è anche un'occasione di grande crescita anche come regista. Sono sei film che di fatto vengono in tutto il mondo, è un concorso molto internazionale, ci sono però due titoli italiani e comunque l'Italia è molto presente in tutto il programma del festival anche appunto per, ne è stato dichiarato, dare un sostegno al cinema italiano in questo momento comunque difficile di ripartenza, per cui c'è anche un messaggio positivo, una speranza. Sì, il momento difficile è per il cinema mondiale, nel senso che anzi poi il cinema italiano è in splendida forma con autori bravissimi e appunto subito prima delle chiusure anche grandi incassi e poi comunque anche nella breve riapertura che abbiamo avuto ci sono stati film che sono andati molto bene, quindi non è in particolare il cinema italiano che ha bisogno di nessun tipo di assistenza, secondo me stiamo messi bene, il problema è il cinema in quanto tale, celebrarlo e ricordarci quanto è bello vedere i film in sala, io ho avuto tutte sensazioni molto positive in quest'ultimo mese da quando sono aperte le sale, sono andata spessissimo, ho visto tutto quello che c'era e ho avuto una bella sensazione di ritorno. Poi devo dire che io con Miss Marks e con il mio film ho avuto una grande fortuna perché è uscito il 17 settembre, quindi è stato in sala, molti quest'anno non hanno avuto questa fortuna e sono usciti su piattaforma, invece sono stata comunque in sala un mese e mezzo e sono andata in giro per l'Italia, ho incontrato il pubblico e anche lì c'era una gran voglia di stare al cinema e di stare tutti insieme. Il discorso è che quello che siamo anche come esseri umani è proprio anche questa esperienza del condividere, del condividere che sia il teatro, il cinema, l'opera, lo spettacolo condiviso è uno spettacolo completamente diverso da quello vissuto da soli a casa. E appunto sia nella giuria sia nel programma comunque c'è una presenza anche femminile non trascurabile, anche questo tutto sommato è un segnale importante di un'attenzione, di un rispetto insomma in qualche maniera che forse a volte viene meno. Sì sì, però nel senso che è dovuto, insomma dovrebbe essere normale e quindi questa cosa non c'è molto da dire se non che è giusto così, più donne ci sono più ce ne saranno perché poi secondo me è un pochino anche, io questo ci ho fatto caso quando ho lavorato alle selezioni del centro sperimentale, quando sono meno le donne che fanno domanda per regia, sono di meno nonostante siamo più della metà della popolazione insomma. Quindi in qualche modo evidentemente sicuramente c'è qualche ragazza di 20 anni da qualche parte che vorrebbe fare la regista invece magari si limita pensando che è un mestiere da uomo, quindi la nostra presenza oltre ad essere dovuta, perché siamo tante a fare cinema, è anche un richiamo per le giovani. Grazie. Grazie a te.